Una prima grande risposta al territorio regionale per la fornitura della tecnologia digitale della banda ultralarga è arrivata proprio in questi giorni da parte della regione Emilia-Romagna per la fornitura appunto di fibra ottica a 160 siti produttivi in tutto il territorio regionale segnalati dai comuni, capoluogo e dalle province. 160 erano le domande, 160 saranno i siti produttivi cablati. Ovviamente fornire la banda ultralarga significa poter far sì che le nostre imprese, le aziende, possano vincere la sfida della competitività territoriale per essere maggiormente adeguate a competere sui mercati internazionali. Noi abbiamo intercettato fondi europei, 26 milioni di euro e li abbiamo impiegati subito con una velocità molto determinata e molto competitiva proprio per beneficiare il territorio di queste nuove tecnologie. È il primo importante passo per l'agenda digitale dell'Emilia-Romagna. Continueremo a investire sul territorio, cablando scuole, pubbliche amministrazioni, strutture sanitarie e ovviamente anche distretti produttivi. Non ci fermeremo perché abbiamo preso l'obiettivo, abbiamo indicato l'obiettivo e lo raggiungeremo, di dotare tutto il territorio regionale della banda ultralarga entro il 2020. 100 mega per tutti i cittadini dell'Emilia-Romagna.